Il bagaglino e i giardini di Porto Cervo è situato nella splendida insinatura di Cala Pitrizza di fronte al mare cristallino della costa Smeralda. Ci troviamo solo a due chilometri dalla piazzetta di Porto Cervo e siamo immersi in un contesto naturale veramente suggestivo. Siamo più di un albergo, più di un residence e più di un villaggio. Abbiamo i servizi propri del quattro stelle, l'indipendenza del residence e la libertà che soltanto un villaggio ti può dare. Con la spiaggia privata dedicata ai nostri ospiti di fronte a un mare che splenda ogni giorno sotto il sole della costa Smeralda. Quello che ci rende unici è proprio il concetto di vacanza spettacolo. Stiamo riportando in auge quello che era il bagaglino degli anni Ottanta, con spettacoli di artisti, cabaret, serati danzanti, servizi di animazione per i più piccoli, spettacoli di show cooking piuttosto che mostre culturali. Tutti gli ospiti del bagaglino ci lasciano con il sorriso perché a fare da sfondo la loro vacanza non c'è soltanto lo scintillio del mare o i colori della macchia mediterranea, il divertimento la sera o la spiaggia bianca, ma soprattutto c'è la cura e la passione che noi ci mettiamo per poter soddisfare tutte le loro esigenze.